La problematica della poseidonia spiaggiata nella città di Agropoli continua ad essere al centro di polemiche. Dal 1 giugno chi soggiornerà ad Agropoli dovrà pagare l'imposta di soggiorno. Inizia così il post del presidente della cooperativa Vivi Cilento Emanuele Ruocco, che a nome degli albergatori associati chiede la pulizia immediata dei litorali. Il mese di maggio sta per concludersi e la spiaggia della Marina e quella del Lido Azzurro si mostrano in uno stato di abbandono. Sono mesi che in città si attende la loro pulizia. Un paese di mare che ambisce ad essere un paese turistico, sottolinea Ruocco, dovrebbe essere pronto già Pasqua. Passi per Pasqua, lo dico con amara rassegnazione, continua Ruocco, ma il 1 giugno non ci si può arrivare impreparati, anche perché dal 1 giugno l'ospite che arriva pagherà anche la tassa di soggiorno. Spero, conclude Emanuele Ruocco, presidente della cooperativa Vivi Cilento, che durante questa settimana i lavori di pulizia dei litorali agropolesi possano iniziare. Non è passato inosservato il post del presidente Ruocco, tant'è che un cittadino ha proposto alle strutture ricettive che devono versare l'imposta di soggiorno di versare la tassa al comune su un fondo dedicato, cosicché la cifra raccolta potrebbe essere utilizzata per la pulizia e la manutenzione delle spiagge in città.